Intro Benvenuti in un nuovo episodio del Global Test Punch di ARMS Nuova IP Nintendo, io sono Axios00 E andiamo subito a fare le amichevoli online perché è giusto così Lo scorso episodio avevamo usato Mr. Mummy e Spring Man Anzi, e Ninjara Questa volta io direi di usare e provare con meccanica Per vedere un po' impostarmi in che senso Abbiamo il martellone, lo squalo eccetera Ce ne sono un botto sbloccabili poi per la versione completa Wow, fantastico, bene, ottimo Per ora andremo così con meccanica Oh, qui ci sono altri scontri già pronti Vedremo un po' dove andremo a finire stavolta Siamo a uno scontro con The Shadow Ragazzi, mi sembra di essere in una vecchia serie Diciamo The Gamers, non so se l'avete mai vista Trovate anche su YouTube, non è pubblicità E che mi è sempre piaciuta un sacco Comunque se c'era il cattivone si chiamava The Shadow Allora, iniziamo subito Bene così, quante ne prenderemo da questo The Shadow esattamente Ok, la parata mi sto ripratichendo Nuovamente con i comandi Maledizione mi ha fatto la presa Ok Io l'ho presa però non erano riuscito a pararmi la scorsa volta con la presa Ma, vedete, forse non mantiene la parata durante la presa Questa volta ti ho preso io, sai però Maledettissimo Mamma mia quanto danno facciamo Ok Perfetto Che è questo? Ah, la bomba! Stavo cercando di capire come funziona Schivata! E presa successiva Facciamo un danno bestiale con la presa noi però, eh Ok, no! Ale, spostati No, spostati Perfetto Aggancialo Ah! Ok, qui bisogna giocare un po' di astuzia Tipo in questo modo Mamma mia la cattiveria del disgraziato Ok, benissimo così Proviamo a tirargli No! Parati! Dai, un colpo a testa! Un colpo a testa! No, mi ha preso lui! Mi ha preso lui! Maledizione! Ok, siamo delle schiappe enormi Ma va bene così L'importante è divertirsi noi in questi giochi Poi iniziamo Questa è la mia seconda partita Praticamente la terza Se contiamo anche Il tutorial Sì, faccio schifo Lo so, sono una schiappa Ma procediamo Perché non ci arrendiamo qui Un'altra partita Stavolta Saremo con Non so con chi Ma dovremo aspettare un attimo Come vedete io Solo un gettoncino Siamo con Marco again Ok Mamma mia La tragedia La tragedia Rimanda a inviare la palla Prima che esploda Quindi la dovremo colpire in teoria Va bene D'accordo Me lo fa scegliere le armi Volevo Il martellone da questa parte E lo squalo dall'altra Tanto giusto per provare un po' le armi anche diverse Per capire un po' come funziona il gioco Perché Tipo appunto Come funziona il gioco Questo è una specie di minijoco Questo Yes Ok Tipo Allora attenzione Colpiamolo Facciamolo andare di là Perfetto No Stai lì Attenzione Bene Ok 2 a 0 ragazzi 2 a 0 Bellissimo sta cosa Mi piace da morire Se Lui non gioca molto bene Tecnicamente Perché non ha capito Che me la deve rimandare Da questa parte Perché altrimenti Gli esplode Faccio io punto Non credo che abbia capito benissimo Come funziona il tutto Bello Vai di là Marco Egan Dai che ce la fai Non c'è riuscito Ok Va bene Marco Egan si è addormentato Dalla parte benissimo L'unica vittoria Che abbiamo fatto online Grandius Solo perché Il nostro nemico Non aveva capito il gioco Ok Vittoria Grandi Direi che a questo punto Un'altra piccola partita ci sta Perché Speravo che Questa seconda Diciamo fosse un po' più lunga Invece è andata un po' male Comunque Cosa Chi toccherà adesso C'è anche una palla No Tutto questo è bellissimo Scontro Due contro due Siamo Axios e Toby Contro Allison e ATD Almeno credo che I riquadri Rosso e verde Volessero dire questo Esatto Infatti Quindi siamo contro Ninjara E Ribbonman Ok Voglio il martellone E lo squalo Mi ci sono trovato Veramente bene Con queste due Quindi Proviamo un po' a vedere Che succede Così Grandi Martelloni Vieni qua No No Ok Perfetto Proviamo a agganciare qualcuno No Aspetta Ho preso Ninjara Sai Preso Ninjara Però qualcuno mi sa che mi ha preso nel frattempo Perché Qui è dramma adesso È dramma Drama completo Vieni qua No Maledizione Maledizione Toby C'hai il coso C'hai il super Per i cazzotti Trevendi Non so come chiamarli Non so come si chiamano francamente Proviamo dalla distanza Ok Avviciniamoci Avviciniamoci E usiamo Vediamo un po' che viene fuori Attenzione E capò Abbiamo vinto No Sì abbiamo vinto In teoria No No rimane un solo avversario Non abbiamo vinto ancora Ma possiamo Forse Prendere lui Mamma mia Non possiamo perdere Siamo due contro uno Dai Dai forza Grandi così Capò Vittoria Belle sfide queste Veramente bellissime Ok Wow Che meraviglia Bella anche l'ambientazione Tra l'altro Tutta ninja Sembra quasi proprio Il posto di ninja Era questo Praticamente come Luogo di base Veramente fantastica Ok Grandi Grandissimi Allora direi che Per quest'altro episodio Ci possiamo salutare qui Tra l'altro mi aveva dato Dei bonus Per le vittorie di fila Io vi ricordo Se vi va di Condividere questo video Questi video Sui vostri social Se mi volete dare una mano A crescere come canale Se volete supportarmi Vi ricordo se vi va Di lasciare un like al video Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi Alle mie pagine Facebook e Twitter Per rimanere aggiornati Su quello che esce sul canale Se vi va Di seguirmi su Diversi Instagram e Telegram E aggiungermi Agli amici di Steam Switch e Playstation Network Così magari possiamo anche Giocare insieme O comunque Parlare un po' Anche attraverso Playstation Network Quello che volete Trovate tutto Quello di cui avete bisogno In descrizione di questo E di tutti gli altri video Access00 E alla prossima Ciao